Musica Scoperto spaccio di speed a Trapani, un arresto Turni più lunghi per i vaccini dopo la sospensione di AstraZeneca Magaddino della Will, il comune rispetti gli accordi, vanno pagati salari accessori Torna a blog di Salvatore Giacalone Ben ritrovati amici telespettatori con una nuova edizione del TG8 Informazione sul canale 190 del Digitale Terrestre e in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook E' stato scoperto un spaccio di speed a Trapani, il primo caso in città E' stato arrestato un minorenne, il servizio di Tiziano Indorato I carabinieri di Erice con l'ausilio del nucleocinofili di Palermo Villa Grazia Hanno arrestato un 17enne trapanese poiché trovato in possesso di alcuni grammi di speed Un potente tipo di metanfetamine In particolare i militari hanno eseguito una perquisizione in casa del minorenne per verificare se il giovane Avesse avviato un'attività di spaccio considerato un insolito andirivieni di persone, di ragazzi Anche a tardasera e nonostante il coprifuoco Durante il blitz il pastore tedesco Ulisse ha portato i carabinieri dritto verso un armadio All'interno di un cassetto è stato trovato un involucro di carta stagnola Nascosto tra alcuni indumenti e contenente circa 2 grammi di metanfetamina Comunemente chiamata speed Si tratta del primo ritrovamento di questo genere di droga molto potente nella provincia di Trapani Infatti da pochi grammi si possono ricavare numerose dosi Che spesso vengono assunte dai giovani disciolte in sostanze alcoliche La droga è stata sequestrata mentre il giovane è stato trasferito nel carcere minorile Malaspina A disposizione dell'autorità giudiziaria E' un grave incidente questa mattina sulla circonvalazione est di Mazzara del Vallo Una Toyota Yaris si è scontrata con una Volkswagen Che in quel momento stava mettendosi sulla strada statale a 115 Provenendo da via dei giardini fioriti L'impatto fra i due mezzi è stato abbastanza violento con il ferimento dei due conducenti Sul posto è pervenuta una pattuglia della Polizia Municipale Per effettuare i rilevamenti e per stabilire la dinamica e la responsabilità del sinistro Un mezzo del 118 ha trasportato presso il vicino a Belaiel due feriti Le cui condizioni non desterebbero preoccupazione E' un camion ha preso fuoco sulla Palermo Mazzara in direzione del capoluogo siciliano All'altezza dello svincolo dell'aeroporto Salvo l'autista del mezzo Questa mattina l'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 Inevitabilmente il traffico è andato in tilt con code chilometriche e auto fino a Villa Grazia di Carini Sul posto personale dell'ANAS rigide il fuoco E le indagini sono in corso per capire da dove siano scaturite le fiamme E cambiamo argomento, torniamo a parlare di covid di zone rosse La Sicilia che è in zona arancione Crescono però le macchie rosse all'interno del suo territorio Il presidente Musumeci ha infatti istituito due zone rosse nuove Si tratta di Sciacca in provincia di Agrigento E di Regalbuto in provincia di Enna L'ordinanza entrerà in vigore domani 18 marzo E sarà valida fino al 30 marzo Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole È stato richiesto dai sindaci delle due città E si è reso necessaria a causa di un repentino aumento dei contagi E a proposito di coronavirus La sospensione, come sapete, del vaccino AstraZeneca Ha inevitabilmente creato dei ritardi nelle prenotazioni Con turni più lunghi per le vaccinazioni Il servizio Turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni Per superare in Italia il ritardo che si sta accumulando in questi giorni A causa della sospensione del vaccino AstraZeneca In attesa della decisione dell'EMA Prevista per domani sulla sicurezza del Siero La riprogrammazione delle prenotazioni a quanto si apprende Prevede l'allungamento temporaneo degli orari quotidiani per i turni di somministrazione E in alcuni casi l'estensione delle inoculazioni a sabato e domenica Anche laddove non fosse già previsto E a seconda del tipo di struttura organizzativa nelle varie regioni E il ministro della salute Roberto Speranza In audizione davanti alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato Ha ribadito che il governo italiano Ha la massima fiducia nel lema E nell'agenzia regolatoria del nostro paese Pretendiamo il massimo livello di sicurezza E continuiamo ad avere il massimo livello di attenzione Sugli eventuali eventi avversi La sospensione temporanea e precauzionale di AstraZeneca Ha proseguito È stata il frutto di un confronto Prima tra le agenzie regolatorie nazionali Poi tra i ministri della salute e i capi dell'esecutivo E il ministro ha anche annunciato Che saranno i medici supportati da specifiche equip A somministrare il vaccino anti-covid nelle farmacie La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti Laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi Il sistema delle somministrazioni in alcune farmacie Sarà integrato nelle reti esistenti all'interno delle varie regioni E gli stessi farmacisti saranno informati dalle ASL Su questi aspetti è in corso il coordinamento Del flusso di informazioni con le regioni Da parte della struttura commissariale per l'emergenza E questa mattina a Trapani è stato inaugurato l'hub vaccinale Era presente il presidente della regione Musumeci Grande assente il sindaco Tranchida dopo le polemiche di ieri L'apertura di questo hub provinciale Darà un grande impulso alla campagna vaccinale in atto Ha detto il manager dell'ASP Paolo Zappalà Durante la cerimonia A pieno regime, ha continuato Zappalà Verranno somministrati 2000 vaccini al giorno Il nostro è un rinnovato impegno in questa battaglia contro il virus Avvertiamo, ha detto il presidente Musumeci L'esigenza di uscire dal tunnel Con Trapani abbiamo completato l'apertura degli hub provinciali in tutta la Sicilia Se ora c'è la disponibilità sufficiente delle dosi di vaccino Potremmo completare la campagna di vaccinazione già entro l'estate Insieme all'assessore Ruggero Razza, ha continuato Musumeci O già oggi pomeriggio, se ci sarà l'autorizzazione per il vaccino AstraZeneca Chiederemo a Roma di consentirci la somministrazione A coloro che in maniera volontaria ne faranno richiesta Parliamo di reddito di cittadinanza Il governo nazionale sta lavorando ad una modifica del reddito di cittadinanza Con delle sostanziali novità I percettori potranno lavorare temporaneamente Sospendendo il beneficio del sussidio Senza subire la perdita o la riduzione dell'assegno Come ha spiegato la vice ministra dell'economia Laura Castelli Riprendendo quanto già anticipato dal ministro Orlando Il DL sostegni potrebbe contenere una norma A cui sta lavorando il ministero del lavoro Che permetterebbe ai percettori di reddito di cittadinanza Di lavorare temporaneamente sospendendo il beneficio E l'organizzazione internazionale della protezione animali Ha lanciato un allarme Da due mesi circa 1800 bovini si trovano stipati in una nave cargo Per ora la nave si trova a largo delle coste di Mazzara Il servizio L'OIPA, l'organizzazione internazionale protezione animali Ha lanciato un appello rivolto in particolare al ministero della salute Per chiedere un intervento urgente in una situazione incredibile Una nave, la Helbeik, con a bordo circa 1800 bovini Bloccata da oltre due mesi in acque italiane a largo di Mazzara del Vallo Gli animali sono stremati e nessuno ancora interviene Per porre fine alla loro penosa odissea Per questo OIPA International ha scritto a tre diversi responsabili Del ministero della salute Chiedendo un intervento urgente a tutela dei bovini Che con ogni probabilità una volta sbarcati Dove, non si sa, saranno abbattuti I bovini sono partiti dalla Spagna lo scorso dicembre E sono tutt'oggi a bordo della stessa nave Dopo essere stati rifiutati dal porto libanese di destinazione Dove dovevano essere scaricati per finire al macello E numerosi altri porti di paesi sul mar Mediterraneo Li hanno scaricati per presunto sospetto di morbo della lingua blu Morbo ad oggi mai confermato Come risulta dal rapporto dei medici veterinari Inviati dal governo spagnolo sull'altra nave La Karim Allah Ed è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami Per l'arruolamento di 66 allievi ufficiali Presso l'Accademia della Guardia di Finanza Per l'anno accademico 2021-2022 Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Quarta serie speciale numero 19 del 9 marzo 2021 E' stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami Per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale Comparti ordinario aero navale All'Accademia della Guardia di Finanza Per l'anno accademico 2021-2022 I posti disponibili sono così ripartiti 58 destinati al comparto ordinario 8 destinati al comparto aeronavale Suddivisi in 4 riservati alla specializzazione pilota militare 4 riservati alla specializzazione comandante di stazione e unità navale La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12 dell'8 aprile 2021 E riguardare uno solo dei predetti comparti e specializzazioni Al concorso possono partecipare i cittadini italiani Che abbiano alla data del 1 gennaio 2021 Compiuto il 17esimo anno di età E non superato il giorno del compimento del 22esimo anno di età Siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado Che consenta l'iscrizione a corsi di laurea Previsti dalle università statali o legalmente riconosciute Non essendo in possesso del previsto diploma La data di scadenza per la presentazione delle domande Lo conseguono nell'anno scolastico 2020-2021 La domanda di partecipazione al concorso Dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica Disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it Seguendo le istruzioni del sistema automatizzato I concorrenti che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata O ricorrere se minorenni a quello in uso A uno dei componenti del nucleo familiare Esercente la potestà genitoriale O in mancanza al tutore Dopo aver effettuato la registrazione al portale Potranno accedere tramite la propria area riservata Al format di compilazione della domanda di partecipazione Sul sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso E prendere in visione del bando Spostiamoci adesso a Mazzara Dove c'è giunta una lettera del comandante della polizia municipale Salvatore Coppolino Che a nome personale delle donne e degli uomini del corpo della polizia municipale Ringrazia il sindaco Quinci Il presidente Gancitano La giunta e il consiglio E tutte le forze politiche e sociali A tutte le forze dell'ordine A tutti i cittadini Che in questi giorni hanno espresso sentimenti di solidarietà e vicinanza Per il grave vile gesto intimidatorio subito E' chiaro, ha detto Coppolino Che nessuna minaccia o intimidazione ci fermerà Proseguiremo con ancora maggiore impegno ed intensità Le azioni intraprese in questi anni Per garantire sicurezza e rispetto delle regole Sempre tra la gente e insieme alla gente E come abbiamo detto nei titoli Il mondo del sindacato si mobilita contro il comune Oggi abbiamo sentito Magaddino della Will Che materialmente lamenta il mancato accordo meglio Il mancato rispetto di un accordo con il comune Per il pagamento dei salari accessori Da parte dell'ente pubblico ai propri lavoratori Ascoltiamola questa lunga intervista Molto interessante del sindacalista Giorgio Magaddino Questo ormai è una dizione un po' tramontata Dalla nuova normativa contrattuale Con l'evoluzione che c'è stata Il cosiddetto salario accessorio All'interno del quale fondo Vi sono diverse centinaia di migliaia di euro Che sono a disposizione dei lavoratori Sia anche delle posizioni organizzative Ci sono lo straordinario C'è la budgetizzazione per quanto riguarda la performance Sono istituti contrattuali che sono regolati Da norme contrattuali nazionali Che anche a Mazzara ha una rifluenza Guardi io non volevo alzare un polverone Avendo suscitato forse anche come dire Una delegazione scomposta da parte del sindaco Al quale va il mio saluto Il mio sommo rispetto Essere come dire additato come un sindacalista qualunque Detto da lui è un bel complimento È chiaro che sono sempre lo stesso sindacalista di due anni fa Quando essendo uno qualunque Avendo mandato decine di persone per incontrarmi Ci siamo anche donati Io faccio il sindacalista E la politica come dire Credo che sia un esercizio democratico E uno lo può anche fare Ma io so separare le vicende Questa è un'attività che è grave Molto grave Perché in un periodo così drammatico Dove il paese vive quello che vive Ove ci sono possibilità di incrementare la parte economica È chiaro che se avviene addirittura da un ente pubblico Si aggrava ancora di più la mancarevolezza che si sono consumate E quindi non si tratta qui di difendere i dirigenti Qui si tratta di difendere i lavoratori E i dirigenti sono anche dei lavoratori Qui c'è una responsabilità chiara, grave Che è da imputare a chi aveva il dovere Di concretizzare alcune questioni I patti si rispettano Noi abbiamo firmato due sigle Abbiamo sottoscritto due intese Che per legge, essendo una parte giuridica E del contratto decentrato integrativo Del comune di Mazzola del Vallo Anno 2019-2021 Senza il quale, quasi una sorta di pietra miliare Non si può procedere a fare nulla Siccome abbiamo fatto il contratto La preintesa nel 2019 E a dicembre, obbligo, non è stato adottato in giunta L'aggravante che ne abbiamo fatto un altro Richiamando il 2019 Al 30 dicembre del 2020 E anche questo non è stato adottato in giunta Cade tutto l'impianto Il rischio è che ci sia un evidente comportamento antisindacale Che valuteremo come Will e FPL C'è un danno ai lavoratori Sono a rischio le somme E in più Non avendo approvato in giunta Il contratto decentrato del 2019 Il rischio è reale che si sono perse quelle somme E in più Non avendo quel contratto E non potendo pagare i lavoratori Anche i dirigenti Non si può pagare il risultato di posizione Perché qualcuno avrà generato questo danno E se qualcuno già si è pagato i premi Da dirigenti Queste sono somme che debbano essere ritornate indietro Allora, io accolgo invece L'invito del sindaco Perché non devo essere io Chiamare un tavolo Se lui si accorge di questa mancavolezza così grave Ha il dovere Poi non ha il piacere Perché c'è il sindacalista Da comunque i sindacati Di fare un'antipatia Perché avrebbe fatto le integrazioni Senza le organizzazioni sindacali Noi abbiamo fatto tre incontri Per dire al sindaco E lui l'ha accettato E di questo bisogna dargli L'iconoscimento Che già ha aumentato Le ore dei lavoratori Stabilizzati Dalla giunta Cristaldi Portandoli Da tempo indeterminato Come lo erano Dalle ore Contrattualizzate Già a 36 ore E questo è un grande applauso L'abbiamo fatto insieme Ma il merito è da scrivere Soltanto All'amministrazione In questo caso Doveva convocare Le organizzazioni sindacali Anzi li deve convocare Noi siamo disponibili Per fare due semplici cose Primo Ritengo che il 2019 Sia andato Recuperiamo il recuperabile Salviamo subito La parte giuridica Approvando il contratto 2019-2021 Io ora spero che il sindaco Insomma non la prenda Come una lezione accademica E magari Come la sto dicendo io Farà l'esatto contrario Non farà nulla Ne piangerà le conseguenze Perché ci saranno Lavoratori che faranno Causa e adiosa Per far valere Le proprie diritte Ci sarà un danno All'ente Perché ci saranno Spese legali Che non finiranno Quindi Da fare subito La parte giuridica Del contratto 2019-2021 In maniera tardiva Recuperiamo il recuperabile Sul 2020 E si inizia a parlare Del 2021 Questo è il quadro Questo è il dramma Che abbiamo denunciato E credo che non c'entra Nulla La politica Questioni Che non so neanche Dove possono Albergare E non accetto Lezioni da nessuno Sindaco Qui non siamo Fra i boy scout Dove fa il capo Il capetto Sei il primo cittadino Deve avere pazienza Rispetto delle professioni Così come altri Lo hanno Io ho rispetto Del tuo ruolo Sei un primo cittadino Stai governando Da due anni Bene o male Saranno i cittadini A giudicarli C'è ancora Una lunga tappa Ma a me Non frega Più di meno Io sono per rispettare I diritti Dei lavoratori Che oggi sono messi In discussioni E sono anche In pericolo E poi vorrei Visto che Quando uno parla Deve essere informato Il sapere L'umiltà Perché non si può pensare Di sapere tutto Le progressioni orizzontali Si possono fare Si sono potute fare Grazie all'amministrazione precedente Che è quella di Cristaldi Che avendo proceduto A fare diverse assunzioni E stabilizzare A tempo Indeterminato I lavoratori precari La legge Madia Ha previsto Che un 20% Di quelle fatte Si possono potute fare Le progressioni verticali E quindi La chiarizia Che durante Nello scorcio Di legislatura Del sindaco Cristaldi Si sono fatte Alcune Progressioni verticali E grazie al lavoro Che ha portato avanti Se ne sono potute fare altre Perché prima Non si potevano fare Semplice Perché la legge Madia Non c'erano E le progressioni verticali Erano bloccate Quindi prima Di additare La responsabilità Che c'era prima Che Allora Viviamo il presente Oggi c'è un dato Terribile Drammatico Che si rischiano Di perdere Queste somme Si rischiano Denunciare Il comportamento Da sindacali Perché abbiamo fatto Due Intese E nessuno Rispettate Vediamo come recuperarle Noi Da sindacalisti Qualunque Come dire Abbiamo la capacità La voglia La passione Di risolvere Il problema Del laboratorio E fare anche L'applauso All'amministrazione Io del sindaco Ne vedo La unicità Sindaco Quince Una persona per bene In gamba Che sa ascoltare Che però Ogni tanto Gli si rivolta Una parte Del proprio io Che non la pensa Come lui Sarà il nemico Io faccio sindacalista Rispetto tutti E un sindaco Come questo Direbbe Agaro Giovanni Neanche all'uovo di Pasqua Si trova Dopo ovviamente Magaddino Continuiamo con Mazzara E la politica Altro duro attacco Al sindaco Della città Salvatore Quince E arrivato dal movimento Siamo Mazzara Consiglio comunale Abbiamo assistito All'ennesimo atto Di arroganza politica E di dispregio Delle istituzioni democratiche Da parte del sindaco Quince Il primo cittadino Non si è infatti Limitato a disertare Il consiglio Sottraendosi così Al dibattito politico Ma ha ordinato All'intera giunta Di non presenziare Lo stesso Mandando una lettera Che considerare Oltraggiosa E poco Il sindaco Quince Ha infatti Con la suddetta nota Comunicato Che in virtù Su della connotazione Prettamente politica Della convocata Seduta di consiglio comunale O pensa Pensa di avere vinto Trafrasando il sommo Oggi più che mai Viene da pensare Ai serva Italia Mazzara Di dolore ostello Una polemica Consigliare per discutere Per il tramite Il presidente del consiglio comunale Di Mazzara del Vallo Sollecita Tutti i consiglieri Ad approvare Sperando all'unanimità Una mozione Per istituire Anche a Mazzara del Vallo Il bollino rosa Destinato ad agevolare La mobilità delle donne In gravidanza E alle giovani madri E sempre a Mazzara È stato pubblicato Il bando di gara Per i lavori Di ristrutturazione E restauro Del teatro Garibaldi Pubblicato Nel portale Tutto Gare Il bando Per l'affidamento Dei lavori Di ristrutturazione Restauro Innovazione tecnologica E miglioramento Prestazioni energetiche Del teatro Garibaldi La procedura Negoziata Verrà espletata Direttamente All'interno Della piattaforma Telematica Tutto Gare Mediante Inoltre Di richiesta D'offerta A tutti gli operatori Economici Iscritti Alla stessa piattaforma I lavori Per un importo A base d'asta Di circa 182 mila euro Prevedono In particolare Il trattamento Antitarlo Della struttura Linea Del teatro E delle capriate Della copertura Il rifacimento Delle cornici In cartapesta Dei palchi E restauro Dei bassorlievi Di cartapesta Del boccascena Il trattamento E la risoluzione Del problema Umidità La sostituzione Di alcuni infissi Esterni E il restauro Di altri La verifica Dell'impianto Elettrico E di illuminazione La realizzazione Di un impianto Di trattamento Aria E climatizzazione La realizzazione Del sipario E della macchina scenica E la realizzazione Di un impianto audio Progettisti Sono l'architetto Tatiana Perzia E il geometra Pietro Aurelio Giacalone Responsabile Del procedimento Il geometra Salvatore Ferrara Dell'ufficio tecnico Diretto Dall'architetto Maurizio Falzone Le offerte Esclusivamente Per via telematica Vanno presentate Entro E non oltre Le ore 12 Del 25 marzo 2021 Ieri Nella hall Del reparto Di ginecologia Ostetrice Neonatologia Del Nosocomio Mazzarese Il Lions Club Ha donato All'annido Del nostro ospedale Sei borsoni Per partorienti Con tutto il necessario Per il neonato Durante la regenza Erano presenti La presidente Del Lions Club Antonella Marino Con alcuni soci Il direttore sanitario Del presidio ospedaliero Il dottor Murano Il dirigente Di pediatria La Bianca Oltre ovviamente Alla dottore Sciacca Dottoressa Quinci E il cappellano Dell'ospedale Don Antonino Favata Che ha coordinato L'iniziativa E spostiamoci adesso A Marsala L'assessore regionale Scile L'architetto Ricciardo Erano oggi presenti Alla città lì Libertana Per il collaudo Della banchina Curvilinea del porto Marsala merita tanto Il governo Musumeci Comprende che è una città Strategica Non solo per la nostra provincia Ma per l'intera regione siciliana Oggi siamo davvero felici Perché di fatto Con questo collaudo Già dotiamo Di una importante banchina Il porto Ma la scommessa vera È quella di Riuscire a far sì che Marsala Venga dotata Di un'adeguata struttura portuale Degna di una città Così importante Nel Mediterraneo Altri 42 metri Di banchina In chiusura Di lavori Non previsti Come supplementari Oggi stiamo facendo Il collaudo statico Sui pali Perché questa è Tutta Strutturalmente Su pali E due prove Cross-hole Su altri pali Nella parte posteriore E una volta Che abbiamo fatto Il collaudo statico Possiamo anche consegnare L'opera In pendenza Della regolare esecuzione Al comune Se qualora La volesse utilizzare E a proposito Di Marsala Per i 160 anni Dell'Unità d'Italia Il sindaco Grillo Presenta Luci dal Mediterraneo Ascoltiamone uno stralcio Oggi ho il piacere Di portarvi I saluti Da sindaco della città A tutti voi Marsalesi I cittadini marsalesi In un giorno particolare Il giorno dell'Unità d'Italia I 160 anni Dell'Unità d'Italia Una storia Che parte anche Da Marsala Con l'epopea Garibaldina Con le celebrazioni Dell'11 maggio Che annualmente Abbiamo ripercorso Con le nostre attività Di carattere Culturale Istituzionale Abbiamo avuto Momenti anche Davvero importanti Nella nostra città Per ricordare Questa fase Del risorgimento Quest'anno Vogliamo presentare In una maniera Particolare Noi Ricordando Quella frase Fatta l'Italia Bisogna I italiani Riteniamo che Bisogna ripartire Proprio dalle comunità Locali Riteniamo che Occorra Fare una comunità Marsalese Una comunità Italiana Una comunità Euro-Mediterranea Per cui vorremmo Lanciare Non solo Il tema Così genericamente Con la buona intenzione Delle attività Culturali Ma anche Come occasione Di confronto Il tema Sarà Quello del Mediterraneo Un confronto Che possa portare Anche a dei risultati Concreti Vi diremo come Durante queste manifestazioni Che istituzionalizzeremo Ogni anno Attraverso delle Iniziative concrete Di carattere Culturale Scientifico Artistico Sarà Un'occasione Anche col tempo Per poter Attrarre Turisti Operatori Turistici E poter Far riflettere Sul significato Del Mediterraneo Oggi E dell'Italia Che verrà Potrete sentire L'integrale Dell'intervista Del sindaco Grillo Al termine Del nostro Notiziario Ed oggi È mercoledì E come ben sapete Ogni mercoledì Torna puntuale L'appuntamento Con blog Di Salvatore Giacalone La normalità Di domani Discutiamone Si sente dire Spesso Niente sarà Più come prima È vero Si parla Dello stesso Concetto Diffidente Che ha inaugurato Fasi storiche Come il Dopoguerra Il post 11 settembre E innumerevoli Catastrofe Ripetute Parte integrante Di storia Dovremmo Abituarci A scambiare Tempo In cambio Di sicurezza Anteporre Il binomio Diffidenza Distanza Alle consuetudine Giornaliere Convivere Con mascherine E guanti Anche questo Sarà storia Molta E sarà La strada Da valicare Per riuscire Per riuscire A riedificare Come società Si cercava Si cercava Di riporre Un briciolo Di speranza Nel ritorno Alla normalità Quella normalità Che piano piano Sfortunatamente Abbiamo visto Sgretolarsi Conne i nostri Stessi occhi Tanto strano È stato L'inizio Della ormai Famigerata Quarantena Quanto il ritorno Alla normalità Se prima ci interrogavamo Su come avremmo provveduto Ad abituarci Alle nuove disposizioni Completamente strane Alle nostre abitudini Ad oggi ci si chiede Se mai si assisterà Alla rinascita Di un paese Di una nazione Un mondo paragonabile A quello di tre mesi fa Privo di distanze Che impediscono I rapporti sociali Privo di barriere Le quali ostacolano Ogni singolo Contatto Privo di mascherine Che nascondono anche Un semplice cenno Di sorriso Privo di paura Quella paura Che ad oggi Ha portato molti Ad essere diffidenti Verso l'altro Si può innescare Ecco La paura Di essere diventati Normali E di vivere Nella normalità Alla prossima E con blog Si chiude Il nostro notiziario E vi do appuntamento Alla prossima edizione Del Tg8 Informazione Sul canale 190 Del digitale terrestre Adesso vi lascio La programmazione Della nostra emittente Della nostra emittente